Abbiamo visto nascere intorno alla Piazza del Campo e intorno al Duomo, alla Cattedrale, la nostra storia. Come ogni lavoro, purtroppo diventa anche un'abitudine, quindi certe volte non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo a lavorare in un posto così bello. La Ciena Cattedrale è la jewelta di Tuscany, ma è quasi loste a wear and tear. La majoria di rinnovazioni dovevano essere fatto per assurare che il rinforo non cava in. È il modello che ha il formato, è il modello che è fondamentale la scelta di un'abitudine, ma è anche il sole di un'abitudine. Il design è essenzialmente composto di l'abilità di materiale a dare formi e formi a la visione di Ciena's architetti, e il risultato è spettacolare e eterno. BASF, we create chemistry.